E quindi, anche per questo aspetto, quella che sembrerebbe la negazione totale della realtà, perché chiaramente è una cosa quadrata, fatta di 64 scacchi, di 64 case, quindi sembra la negazione della realtà, mi divertiva provare a portarla nella realtà e a vedere questo elemento ludico. Perché poi, aggiungo ancora una cosa prima di dimenticarmela, un altro aspetto secondo me importante, scontato, assolutamente scontato, ma importante del gioco, è che il gioco, il più sofisticato e il più elementare dei giochi, hanno in comune il fatto che devono avere delle regole. Cioè, non esiste gioco. Se ci pensiamo, di primo acchito è la massima espressione della libertà, no? Il gioco è un'espressione istintuale del divertimento, dell'uscita di sé, del divertirsi. Nello stesso tempo, per essere veramente divertente, il gioco deve avere delle regole. E questo ce l'ha, voglio dire, spesso il gioco ha delle regole, anche se tu giochi da solo, non soltanto nel solitario, anche se giochi con una palla contro il muro, ti dai delle regole per divertirti. Tra l'altro, questa è una cosa che i bambini, io non ho bambini, non li seguo, ma sono stato bambino anch'io, di cui i bambini godono molto della scoperta delle regole, del fatto che per giocare quel gioco hanno bisogno di certe regole. E anche questo, secondo me, è un aspetto interessante, di cui, certo, gli scacchi sembrano una specie di massima espressione di questa cosa, no? Ma lo trovi anche in giochi molto più elementari e semplici, insomma, in cui comunque questa evidente dialettica si teatralizza, si mette in gioco, no? Cioè, tu per giocare e quindi per esprimere la tua libertà, il tuo divertimento, hai bisogno di regole e quindi di regimi. Poi, vuol dire, è la stessa cosa della poesia. La poesia è la massima espressione dello spirito umano, la massima libertà, ma ha potuto essere tale solo grazie alla metrica, alle regole. Però adesso che parli, in realtà, la cosa più interessante, perché non viene fuori in modo automatico dal libro, no? Però questa riflessione sul fatto, su queste dieci alla centoventesima possibilità che hai alla terza, quarta mossa, quindi tutte le combinazioni possibili che tu puoi avere, c'entra moltissimo in realtà con le riflessioni che sono nei tuoi libri sull'identità, no? In realtà tu puoi diventare tutto, no? Sì, assoluto. Dipende dalle combinazioni poi della vita, dagli incontri, da una parte che ha a che fare anche con la tua impronta, diciamo, di nascita, no? Per cui questa cosa qua gioca moltissimo. Ma poi le combinazioni sono paradossalmente tutte aperte, quindi non è un caso che poi il gioco degli scacchi diventi centrale in questo libro, no? Perché, essendo il tema dell'identità centrale, le combinazioni possibili e le regole per cui poi, no, diventi qualcuno o qualcun altro, sono determinanti. Anche se poi, come dici tu, alla fine paradossalmente questo infinito diventa un finito. Non è la vita come la partita. Ma certo. Non è la vita come la partita, perché poi le partite tendono a ripetersi. Sì, è anche difficile in questo momento, come dire, prendersi la libertà di... Cioè, tu cerchi di affrontare con un occhio diverso i temi del mondo e quindi anche un po' questo disastro di fine della comunità, io trovo, no? E del senso di appartenenza a una comunità che sa lavorare insieme, che sa darsi un senso. Però è come se tu rifiutassi di farlo anche con un occhio come sociologico. Trovi delle strade, appunto, questa è la strada appunto allucinatoria, oppure la strada in cui tu nascondi la tua identità vera per dire d'altro. Penso a Io vi perdono, in cui tu poi neghi la tua identità e ti presenti con questo nome da donna perché vuoi comunque raccontare di quella cosa lì. Salvo poi riutilizzare materiale a nome tuo. Ecco, insomma, in qualche modo giri sempre intorno a queste combinazioni possibili degli scacchi, mi pare, no? Che questa sia una fase in cui è maturata, è maturato un percorso che probabilmente c'era fin dall'inizio. Sì, questo è un libro, diciamo, che a me piace che tu lo riconosca in continuità con il lavoro precedente. Tuttavia è come se fosse, diciamo, l'inizio di qualcos'altro di cui io non so ancora intuire il seguito, francamente. Però, diciamo, io ho concluso con a nome tuo un ciclo di lavori su, diciamo, la questione del soggetto, per non dire cosa banale. La questione del soggetto, che è appunto quello del ciclo delle stelle. E quando ho finito a nome tuo ho avuto la perfetta sensazione di aver chiuso una porta alle mie spalle. Ecco, cioè, veramente che qualcosa che era un'esperienza di vita, era un'esperienza, diciamo, pure artistica, insomma, durata 12 anni, si era conclusa. Ecco, questo sì. Poi, l'esperimento è nato, diciamo, come una novità e ha magari tutti questi influssi che restano, che riguardano il mio modo di, le mie fissazioni, diciamo. Le mie fissazioni, i miei tarli, le mie manie, ecco. Però, nell'esperimento io mi sono sentito più libero, ecco, più libero, più libero, intanto perché avevo ripreso l'invenzione pura. Ecco, l'invenzione pura, perché appunto questi personaggi non esistono, quindi una certa libertà anche. e poi perché comunque questa parte così visionaria, onirica del re e la regina era un'invenzione nuova, insomma, un po' inedita per me. Ecco, cioè, di questi personaggi di carne che però sono visibilmente un'altra cosa, no? O lo stesso, dei personaggi che sembrano dei pezzi di scacchi, però invece vivono, hanno dei lavori, fanno delle cose. Forse posso leggere una pagina così, do l'idea di che cosa, perché poi a spiegarle le cose io non sono bravo, non che sia bravo a scriverle, però. Certo. Sì, sì, sì. Allora facciamo le domande, facciamo le domande. Facciamo le domande, sì. Non vuole leggere una pagina? No, ma forse la signora vuole fare subito una domanda. No, diciamo che non vuole. Però ci hanno raccomandato di aspettare il momento microfono. Sì, il microfono è già aperto? Grazie, buonasera. Intanto mi scuso, prima è suonato il telefonino, mi scuso, ma l'avevo dimenticato acceso. Mi sono accorto. Meno male. No, invece me ne sono accorto, ma... Senta, il libro non l'ho letto, quindi non, naturalmente, non posso fare alcuna, non posso dire né esprimere nessuna opinione, nessun commento, chiaramente. Lo leggerò perché è il tema centrale che è questo, degli scacchi, mi piace, perché a me piace giocare a scacchi. Purtroppo non pratico molto perché non trovo molti giocatori che giochino con me. Giungo alla domanda. Mi incuriosisce moltissimo il tema dell'allucinazione. In quale senso? Nel senso che mi piacerebbe conoscere se le allucinazioni di cui è, diciamo, affetta, chiamiamola così, la protagonista sono sintomatiche di un disagio interpersonale, esistenziale, oppure di un disturbo di natura neurologica. Ecco, questa cosa qui mi ha un po' incuriosito. Non so come lei l'abbia trattato. Se mi può rispondere, bene, altrimenti, insomma, esplorerò le risposte attraverso la lettura. La ringrazio. Io credo di poter dire entrambe le cose, nel senso che, e dipende poi anche da quella corrente di pensiero che devo assumere per risponderle, nel senso che, diciamo, probabilmente uno psicologo, diciamo, biologista, magari dice subito che dipende dai neurotrasmettitori, dal tipo appunto. E un altro, invece, magari dice anche dalle ragioni esterne, della famiglia, dei problemi della donna. Da quello che abbiamo accennato prima della vita di questa ragazza, e così vengono anche recepiti nel racconto, perché nel libro lei ha una specie di allenatore guru che un po' le fa anche da consular, in qualche modo, anche con tutto un aspetto semicialtronesco, diciamo. E comunque nel libro questo aspetto dell'allucinazione come una risposta di un problema psicologico è molto forte, tanto che questo suo allenatore le dice, guarda, che tu non devi tentare di inibirle, ma anzi devi ascoltarle, queste allucinazioni, vedere dove ti portano, no? Devi scrivere di queste allucinazioni, l'espediente è quello, perché poi lei scrive al suo allenatore queste cose, no? Che cosa vede? E quindi noi leggiamo nel libro le cose che lei vede. E quindi in effetti la spiegazione è sia neurologica che psicologica, diciamo, ecco. Se non trova compagni di gioco sugli scacchi, però guardi, le consiglio veramente di giocare in rete, che è bellissimo. A me invece è bello. Il corpo a corpo. No, questo lo capisco, però in questi tempi non è sempre facile. Ho visto che c'è un circolo degli scacchi a Verona, però. Sì, ma non ho un'altra. Ah. Sono qui per lei stasera. Caspita, lusingato. Buonasera. Il mio indirizzo di saluto a lei. Mentre che lei estendeva la sua relazione, per analogia, mi emerge un contesto molto profondamente a livello psicoanalitico. Allora io vorrei dire a lei, la ragazza sta gridando la sua fatica nel suo contesto, suo storico, e quando si è nel dolore, il linguaggio, le parole, sono insufficienti. Cioè, per me dà questo messaggio. Quindi il gioco di scacchi diventa una liberazione per liberarsi e andare nella vita mistica. Praticamente lei sta cercando, ma nella speranza anche che ha una piccola resistenza, della microfisica della resistenza la vuole superare. Ecco, e allora a me rimane questo che emerge. Lei vuole superare la fatica di questa sua sofferenza nell'albirazione. Perché tutti noi vogliamo, se vogliamo parlare nel contesto della psicanalisi, perché lei porta una delecionazione della narrazione. Ecco, poi la ragazza, quando diventa protagonista, ha una strazione a sua particolare. Si sa già che quando scrive il romanzo, la ragazza ha una strazione a sua particolare. diventa praticamente astratta in un contesto neutrale. Allora chiedo a lei, vuole dare questo messaggio? Cioè, lei cerca la liberazione della sua fatica in questo andarsi, perché tutti vogliamo andarsi nel gioco oltre la resistenza della microfisica. Io la ringrazio. Ringrazio lei. Se ho capito la mia protagonista, temo di no, che non sia come dice lei. Nel senso che, come tentavo di spiegare prima, ho l'impressione che la mia protagonista trovi negli scacchi il proprio fardello, non la propria liberazione, il proprio peso, cioè la propria gabbia. Perché è stata costretta a giocare a scacchi tutta la vita. tanto che una delle forme sue di emancipazione è quella di urlare all'allenatore basta scacchi, diciamo. Quindi qui il gioco non è vissuto, gioco intendo gli scacchi, non è vissuto come una forma così di risarcimento del proprio desiderio, del proprio godimento, ma è al contrario una specie di gogna, alla quale... gogna anche fisica, tra l'altro, perché questa ragazza, come dicevo, è abbastanza impedita nei movimenti, quindi sta davanti al computer, si muove prevalentemente in casa, se si muove per uscire fa molta fatica con le stampelle, insomma. Quindi non lo so, perché poi io non credo che gli autori siano i depositari del senso del libro che hanno scritto. Quindi magari non ho capito bene la mia protagonista. Se l'ho capita, mi sa che non è come dice lei. Mi dava questo risultato, la fragilità. Scusi, l'interrompo, ma lei ha letto il libro? No, però quello che lei estende... Io ho fatto tanta psicanalisi. No, 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 non mi chiedevo se queste sue osservazioni le venivano da... No, no, nella psicanalisi c'è una terapia profonda che noi non possiamo acquisire quello che lei mi dice. Nella psicanalisi vado a cercare l'oltre parola, perché se io acquisisco quello che dice lei, io entro nel contesto dell'immaginario e vado io in patologia. È profonda la psicanalisi, la caliana. Ecco, quando sono in terapia o faccio della terapia, io devo estranarmi perché devo acquisire quello che è l'altra parola. Scusi la mia ridonanza. Se io vado a acquisire quello che mi dice il paziente, io entro nella sua dinamica schema mentale e divento io in patologia. Ecco, sono questi i messaggi che lei mi sta dando. Mi scusi di nuovo. Senza accorgermene. Vediamo se c'è un altro. Buonasera. Adesso si offenderà perché sono un altro che non ha letto il libro. No, 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 non mi offendo affatto. Cercavo di capire se le osservazioni del Signore venivano dalla lettura del libro o da quello che avevo detto io. La riflessione era probabilmente al di là del libro. Prima ha detto, mi piaceva l'idea di questa metafora, della scacchiera come di una città. Ha parlato del gioco, alla base del gioco ci sono regole e quindi una strategia. La domanda è questa. C'è nella sua riflessione, al di là di questo libro, quindi proprio nella sua personale, l'idea che se da un lato è bello in qualche modo, auspicabile, che ci siano molte possibilità, infinite possibilità, questo dà anche un senso di... Così nulla è inevitabile, si è sempre in tempo a correggere il tiro. Dall'altro lato però, in definitiva, se si utilizza la metafora della scacchiera, si dovrebbe concludere, se non c'è una vera strategia, si rischia poi di perdersi. Negli scacchi, chi continua a cambiare la strategia, chi continua a muovere i pezzi in maniera diversa, senza avere una coerenza di fondo, poi in definitiva perde. Quindi mi chiedevo se c'era, quando ho pensato alla metafora della città come scacchiera, anche la metafora di persone che poi, se in definitiva, in tutte queste possibilità, però non hanno una coerenza di fondo, poi si perdono, insomma. Ma diciamo che immaginando che, diciamo, in questa città scacchiera noi non vediamo i giocatori, vediamo i pezzi, quindi vediamo i pezzi agiti. C'è questo paradosso di vedere dei pezzi agiti che si muovono come se fossero convinti di essere agenti, che, le ripeto, è una sensazione che io vivo molto forte, con l'acuirsi dei messaggi di instabilità che noi riceviamo dal mondo, e instabilità, intendo instabilità materiale, ma non solo, cioè non soltanto la crisi economica, tutto, diciamo, tutto mina le nostre certezze, questa sensazione diventa molto forte. Di conseguenza che io, tutti quelli che vivono sulla scacchiera, immaginando di essere reali, come siamo noi in questo momento, in questa sala, spero, credo, nella normalità, si danno una strategia di vita, diciamo, cioè pensano di agire secondo dei propri disegni, dei propri progetti, insomma, tranne quelli disgraziati, poveretti, diciamo, però, diciamo, le persone che normalmente vivono, vivono secondo un progetto di vita, secondo delle ambizioni, dei disegni, delle cose che, degli obiettivi che inseguono, altri che... Quindi non riesco a immaginare su questa scacchiera delle persone che agiscono in modo sconclusionato. In questo senso mi sembra che possa... che possano somigliare agli scacchisti i quali, diciamo, se sono degli scacchisti bravi, diciamo, comunque hanno una strategia di gioco. Il fatto è che comunque, anche se hai una strategia, poi vinci o perdi, perché comunque entrambi i campioni quando si confrontano hanno una strategia di gioco, salvo il fatto che poi uno dei due vincerà. Magari tu nella vita, tu intendo tu in un senso generale, una persona nella vita ha una propria strategia e ha delle mete da raggiungere, degli obiettivi e si porta il proprio carico di dolore, di sofferenze, di atti mancati e tutto il resto. Ha una sua strategia, però poi ci sono delle persone che si... sono dei vinti e dei vincitori, insomma, ecco, delle persone che sembrano avercela fatta, nel senso che sono comunque soddisfatte di sé, che sono compiaciute della propria vita e che si guardano con serenità e delle altre persone che bene o male non si sopportano. Hanno comunque un cattivo rapporto con se stessi, con quello che gli sta succedendo, ecco. Questo a un livello veramente non mi... inoltro in discorsi difficili, però insomma, credo che sia abbastanza così. Sì, poi c'è anche questa cosa che fa uscire da questa ipotesi quasi deterministica il fatto che tu vinci quando fai una mossa impensata dall'altro. E allora che tu esci dallo schema, da una strategia che finora era abbastanza... cioè che ha del prevedibile, quando tu trovi la mossa impensata ce la fai. Sì, ecco, possiamo dire tante cose su questo discorso, però tengo a sottolineare questa differenza che noi ora stiamo discutendo delle strategie però dei pezzi, perché io in questo libro tratteggio molto poco delle figure che giocano, salvo gioia, che praticamente non si vede mai che gioca, ci sono volte che si vede che gioca, per il resto sta sempre lì che fa la sua vita, insomma. immaginate che ne so, voi state raccontando la vita di un giornalista, però salvo qualche momento in cui lo mostrate nel libro che si aggira per la redazione, non è che mostrate che sta scrivendo il suo articolo, semplicemente questo fa di mestiere o l'architetto, non è che per questo mostrate i suoi disegni, i suoi progetti, semplicemente lo vedete qualche volta nello studio che passa, magari che ne so, fa una telefonata, ecco, una cosa abbastanza simile accade in questo libro dove appunto non ci sono dei capitoli tranne uno su classici confronti tra i due scacchisti, chi ha il temperamento di un tipo, chi ha il temperamento dell'altro, che ne so, Bobby Fischer, Kasparov, Compagnia Bella, ma è proprio piuttosto vedere e se questi pezzi che noi siamo convinti che siano di legno sono invece, siamo noi? Quindi è il rovesciamento. Sì, molto volentieri, cioè se in questo momento ci fosse tra virgolette un narratore onnisciente che ci guarda da lassù e sa distinguere tra di noi chi è un pedone, chi è una torre, chi è un cavallo, chi è un alfiere, chi è una regina, chi è un re, capite? Questo è il gioco del libro, no? Cioè se noi tutti qui che siamo persone normali, che hanno i propri affari, le proprie vite, invece fossimo bianchi e neri, regine, re, alfieri, Compagnia Bella, questo è il gioco. E tu cosa dovresti essere? Visto che parli di pedine. Io non so niente, diciamo che molte delle cose del re sono le mie, insomma, ecco. visto che parlavamo del re, magari vi leggo una pagina del re. Ecco, forse è appunto una pagina che rende un po' l'idea di queste, di questa realtà. vabbè, leggo questa che insomma, questa fa arrabbiare sempre le mamme, però insomma, leggo lo stesso. Andiamo se c'è qualcosa che devo spiegarvi, c'è qualcosa che devo spiegarvi che altrimenti è dentro il testo e non si capisce. No, vabbè, nel testo si dice bufala, ovviamente per bufala si intende la mozzarella di bufala. Scontato. Devi solo scendere tre piani di scale, girare l'angolo e comprare la ricotta. Ce la puoi fare. Non diluvia, non nevica, niente affequatoriale, niente cataclismi. Anche oggi siamo stati risparmiati. Gli ha parlato così la regina. Ogni tanto succede. Soprattutto si chiama dalla redazione e sente la voce del re ancora impastata di sonno. Non è rabbia, è sconforto. La ricotta. Una piccola richiesta insolita, un segnale d'allarme ecco perché si sta vestendo. Se crolla la consorte la partita è chiusa. Per fare gli gnocchi alla ricotta serve la ricotta, due etti di ricotta fresca. Meglio andare a comprarla. Riescono bene gli gnocchi alla regina? Boh, beh, per spaccare una finestra o andare a caccia con la fionda vanno benissimo. biglie molate a mano da mandare giù con abbondanti cucchiaiate di burro fuso. Poco importa. Domani potrà trascorrere la mattina a raschiare via dal tavolo la pasta secca. lo spazio riconquistato all'interno della tomaia grazie alla scorciatura delle unghie produce nuove incertezze all'andatura già sospetta del re. Nel breve tragitto che lo separa dalla meta ben due passanti si voltano a osservarlo. eppure non è certo strano che un tizio conciato così navighi nelle scarpe più che un navigare poi è un tastare come se a ogni passo cercasse una monetina con le dita. La salumeria non ha un insegna in compenso espone un cartellone con la scritta bufala sempre calda. Ogni mattina il salumiere per prima cosa porta fuori il cavalletto e lo piazza in mezzo a un marciapiede. E' un'offerta urlata a tutto il quartiere un annuncio fervido di promesse che mette in subbuglio anche l'immaginazione di chi non ama i latticini. Oggi il suo messaggio si capisce